Per la cronaca adesso c'è stato un incidente stradale in mattinata sulla statale 87 Sannitica. Vedete le immagini a pochi chilometri da Campobasso nei pressi di Vinchiaturo. Due auto, due Fiat Punto si sono scontrate per cause che i carabinieri che sono intervenuti per disciplinare il traffico e per i rilievi dovranno accertare. Il bilancio è di tre persone ferite. Sono state trasportate all'ospedale Cardarelli dal personale del 118. Sul luogo dove è avvenuto lo scontro, anche i vigili del fuoco di Campobasso, il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata a seguito dell'incidente. Infatti sull'asfalto sono rimasti detriti e macchie di olio.